Inclusione, abilità e speranza sono le peculiarità principali del nuovo progetto Laboratorio di Formazione e Accoglienza Ergon, presentato alla stampa ieri mattina presso il centro di ipoterapia Itaca di Fano, situato in via Madonna del Ponte, in presenza del Rotary Club di Fano, dell'Associazione Anfas e dell'assessore delle politiche sociali del Comune di Fano. Il presidente del Rotary Club di Fano ha sottolineato come il progetto sostenuto economicamente rientra a tutti gli effetti negli obiettivi del Rotary Club. Dove esistono progetti di responsabilità sociale come questo Rotary c'è. Questo è un progetto di inclusione, inclusione è parte integrante dei nostri obiettivi, inclusione è speranza, noi daremo speranza alle famiglie. Questa speranza significa garantire che i propri figli, gli utenti di questo centro possono avere una dimora, che è questa, dove si riesce in qualche modo a sviluppare quelle che sono in senso positivo le abilità. Queste persone noi siamo sempre stati abituati a vederli come disabili, che sono un'accezione negativa, invece per noi hanno delle abilità, queste abilità le andiamo a cercare, le andiamo a costruire, le andiamo a far crescere e questa dimora serve a far questo. È un'inclusione, un'inclusione sociale, perché questa dimora sarà aperta anche alla cittadinanza, quindi qui l'incontro tra la cittadinanza e le persone un po' più svantaggiate permette questo fatto di fusione sociale tra questi individui. Questa cosa diventa fondamentale perché è un centro nel quale, lavorando, potenziando le loro caratteristiche, questi ragazzi possono entrare nel mondo del lavoro e possono sentirsi utili e questo è veramente importante per una collettività come questa. L'Anfas Onlus di Fano è gestore della struttura socioeducativa riabilitativa Centro Itaca e punta con il nuovo progetto ad un'inclusione lavorativa dei soggetti fragili. Il progetto che abbiamo pensato è quello di creare un ambiente lavorativo, un ambiente, una sala polifunzionale in cui verranno fatti dei laboratori, laboratori protetti per l'inclusione lavorativa ma anche di altro genere. L'idea è quella di dare un'opportunità ulteriore ai ragazzi che frequentano qui Itaca, poter fare intervenire anche altre persone, anche dall'esterno, per aprirlo all'esterno e per aprirlo alla fruibilità da parte di tutti, insomma è un bene della collettività. Sinteniamo che il bene possa essere utilizzato da tanti. Per l'assessore alle politiche sociali, il progetto Ergon è un passo avanti significativo di apertura per la comunità. Apertura alla comunità di opportunità ulteriori per i ragazzi soprattutto con disabilità, di poter formarsi, di poter sviluppare le proprie abilità e di poter essere integrati, sempre di più essere percepiti nella comunità. Per cui ecco è un passo verso la direzione di nuove collaborazioni, una nuova apertura e alla fine far sentire alla città che il centro Itaca è un centro che ha tante potenzialità a disposizione di tutti. Sarà dedicato a Eleonora Fregulia e al suo dolce sorriso la Sala Polifunzionale Laboratorio Polivalente, la di Mora, che verrà inaugurata sabato 11 novembre alle 10.30 e per l'occasione sarà offerto un aperitivo alle autorità e a tutta la cittadinanza.